Paura e terrore sul Gargano per una doppia scossa di terremoto tra Natale e Santo Stefano. Opportunitamente nessun danno a cose o persone. Il Ville in Puglia ha la 6% e i fondi del piano nazionale residenza e resilienza per la regione Puglia da gestire fino al prossimo anno. Variazione per i buoni spese a Cirignola nel Pugliano, anche per i poveri in difficoltà. La matricola e rivelazione della Lega Pro a Nicola Piego, presidente dell'Audace Cirignola, grazie al bilancio della prima parte dello storico campionato.